Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole Oggi è mercoledì 20 febbraio 2019 E lascio che ti mostri la mia sessione Bene, questo è il market profile, ieri vi to use a session Ieri abbiamo avuto una giornata a rialzo, come vedi E poi, prima della chiusura serale, il mercato ha fatto questo veloce pullback Quindi ci sono questi due importanti livelli Questa linea magenta tratteggiata e questa linea magenta qua Questa zona qua è una zona di bilancio, di balance, come si dice in inglese Il market profile della sessione overnight, come vedi, è rimasto in questa zona qua Siamo a due minuti dall'apertura E oggi è il giorno del rilascio delle FOMC News Verso le 8 di sera in Italia Quindi la volatilità durante l'apertura è già minore E anche perché, come vedete, apriamo il range di ieri Quindi, diciamo, se vuoi guadagnare cifre consistenti Devi cercare di aumentare la posizione, la tua size Prendendo molto meno estensione di range Perché quando apriamo in balance e poi un giorno di release La volatilità è minore Prima del rilascio della notizia è minore Bene, il mio primo trade è stato posizionare 10 ordini pendenti buy Dopo 10 minuti dall'apertura Perché, come vedi, questa è l'apertura Siamo, scusami, dopo 20 minuti siamo alle 15.49 Questa è la candela dell'apertura 5, 10, 15 e 20 Io sono entrato praticamente su un classico Ross Hook Long Anche se ti è a 5 minuti, guardando qua Non ci vedi nessun Ross Hook Long Anzi, vedi un sequenza decline qui E un grosso ordine di vendita Su questa linea tratta già a nera Che è il POC della sessione P2 di ieri Come vedi questa linea qua? Ok? Questo è il massimo overnight Bene Perché questo trade? Perché praticamente il market profile Ti dà degli importanti indizi Avendo aperto all'isopra del midpoint Del punto di mezzo della sessione di ieri Il mercato era più orientato ad accettare prezzi a rialzo Poi qui c'è uno spike upward Ora non posso andare nel tecnico Però comunque c'è una serie di circostanze Per cui l'apertura in questa zona qua È una zona positiva Bene Io metto 5 contratti lunghi Il mercato mi esegue Come vedi il mio pre-target è Sotto questa linea tratta già a nera Che è il POC della sessione overnight Questa linea qua Che ho messo dopo Ok? Bene Il mercato mi esegue Il primo target è un tick Sotto la linea blu Che è il massimo overnight Gli ultimi contratti sono Alla linea rossa Che è la valo area high di ieri Vedi? Ora qui non si vede Ma è la valo area high di ieri Fidati Bene Il mercato come vedi Accelera In 5 minuti fa Questa trappola Per i sellers E poi il mercato Rimbalza proprio dal punto di mezzo Ok? Della sessione overnight Questa linea tratta già a blu Il mercato come vedi Ma che profile è aperto In questa zona Tra le due linee magenta Quindi un'area Ad alto livello di accessazione Di livelli Quindi positiva Il mercato è destinato Ad andare verso Il massimo overnight E poi la valo area high di ieri Vedi? Questa è la linea rossa La linea blu Invece la valo area low Bene Il mercato cosa fa? Questo è il grafico a minuto Come vedi Il mercato poi ha fatto Un pullback Bene Di pochi tick qua Sempre sul punto di mezzo E poi ecco Il mercato Ha iniziato ad accelerare il rialzo Io a questo punto ho messo Un contratto 4 target Un tick prima del massimo assoluto Poi perché ho visto Di volatilità Non ce n'era molta 5 contratti Un tick prima Del massimo overnight L'ultimo contratto Un tick 2 prima Della valo area high di ieri Bene Il mercato mi vedi A 5 minuti Mi sta per andare a prendere I miei primi 4 contratti A questo punto porto Il mio stop loss Da qui a brecchive Un tick sotto il COT Della prima Andella 30 minuti Il mercato accelera Rimbalza Sul Pio Sì Della sessione P2 di ieri Questa linea Strateggiata Colore Nero Il mercato Come vedi Va a rialzo Mi prende Gli altri 5 target A questo punto Porto Il mio trading Stop profit Proprio sulla linea Della regione Che è il Pio Sì Della sessione P2 di ieri E poi il mercato Il mercato Inverte E all'apertura Della seconda Andella 30 minuti Ma vedi Ci sono grossi Ordini di vendita Il mercato Mi stoppa Andella 30 Stop profit Proprio a livello Di più Sì Ma poi Importa Perché con il primo trade Porta a casa 837 dollari Di profitto Bene Il secondo trade È questo Posizione ancora 5 contratti Perché Caro mio amico Perché siamo ancora In questa zona Tra la linea magenta E la linea Strategiata magenta Quindi una zona D'alta accettazione Di prezzi A rialzo Bene Il mercato Mi esegue Il mio ordine Metto 4 contratti Esattamente sul massimo Vernati Questa linea blu L'ultimo contratto Sulla linea rossa È la value Aria high Di ieri Lo stop loss È un tick Sotto La linea verde È il set Il main price Di Chicago Della sezione P2 di ieri Della SP Mini 5 under Perché ti ricordo Che io trado L'SP Mini 5 under L'SP 500 Mini O il future Bene Il mercato Come vedi È Questo trader Cioè La intuizione Di aver fatto questo trader È derivata Dal market profile Da quello che succede qua Ora io non ti posso Svelare Tutti i seri Del market profile Anche perché Non si è detossificato E quindi Perderai soltanto tempo Ok Bene Nel market profile C'era un indizio Per cui era ancora Più vantaggio Sando andare a rialzo Non solo perché Eravamo dentro A queste due linee magenta Ma proprio perché C'era un indizio qua Ok Bene Come vedi Il mercato ha fatto Un pullback Per un tick Non mi ha preso Il mio stop loss Perché ti ripeto Quando sai dove mettere Il tuo stop loss Perché io metto Lo stop loss A livello strutturale Ok Il mercato non te lo prende Infatti come vedi Ci sono smart buyers Che hanno comprato Io a questo punto E la sostanzialmente Per cambiare per cambiare Per cambiare per sempre E meglio la tua vita La vita delle persone Che ami E il tuo trading Ok Ciao Io ti auguro Grossi grazie Su questi profitti E al minuto prossimo Sessione di trading Sessione di trading